Musica Senti tutti della nostra scuola Gesù è un buon fattore Quest'anno lo prendiamo Lo facciamo noi bambini Musica 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 Che bello è Quando c'è tanta gente E la musica La musica Fa star bene E' una rivoluzione Quando ci si può parlare Adesso vi accompagno A visitare le nostre tre sezioni Musica Musica Siamo divisi per l'età Quando lo stadio è pieno E la musica La musica Riempie il cielo E' una rivoluzione 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 E' una rivelta Premissa E noi E' una rivoluzione E' una rivoluzione Ciao mamma, guarda come mi diverto 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 Qui il nostro muestro di ginnastica ci fa fare tanti esercizi come i grandi e ci divertiamo un sacco Adesso vi facciamo vedere la nostra palestra interna Andiamo a vedere i nostri meravigliosi giardini Siete pronti? Tutti fuori! Tutto questo lo viviamo con le nostre fantastiche maestre Adesso ve le presento Suor Benedetta Eleonora Alice Felice Perla Laura Anna Chiara Ciao a tutti! Grazie a tutti.